52-90-69.255 Chi è Alessio? Uomini e donne, età, altezza, peso e Lavinia È stato conteso dalle due troniste in carica a ottobre 2022 ovvero Lavinia e Federico Lui è un bel ragazzo che si chiama Alessio e che è stato chiamato a fare una scelta Chi corteggiare tra Lavinia e Federica? Chi è Alessio? Uomini e donne, età, altezza, peso e Lavinia Alessio, corteggiatore di Uomini e donne, ha fatto alcune esterne con le due troniste in carica a Uomini e donne, ovvero Federica e Lavinia Dopo averci pensato un po' ha deciso di restare in studio per corteggiare Lavinia con la quale ha trovato più affinità Chi è Alessio? Corteggiatore di Lavinia Mauro di Uomini e donne di Alessio non sappiamo molto fatta eccezione per il fatto che ha studiato economia aziendale, ha una laurea specialistica in marketing e lavora in un'azienda di Milano da qualche anno Alessio non ha ancora compiuto 30 anni, è un ragazzo pagato e dà i modi gentili È stato subito notato dalle due Grazie per aver guardato il video Si prega di mettere mi piace e commentare la tua opinione per farci discutere di seguito Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità Ci vediamo nei prossimi video, ciao Ciao